Sulla vertenza Unicop è intervenuto anche il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio, che ha chiesto all'azienda di collaborare per salvaguardare i posti di lavoro. Si legge in una nota, ben 270 lavoratori dislocati in 8 punti vendita del sud del Lazio rischiano di perdere il posto di lavoro. Ci aspettiamo da Unicop la collaborazione necessaria a salvaguardare i livelli occupazionali del territorio. Così si sono espressi i consiglieri regionali pentastellati, a margine dell'audizione sulla vertenza Unicop svoltasi ieri in Commissione Lavoro alla Pisana, che ha visto confrontarsi regione, azienda, sindacati e lavoratori. Chiediamo all'azienda di rispettare i tavoli aperti in regione e al Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro di una rivalutazione generale nel piano industriale e commerciale dell'azienda. Ci appare un atto dovuto anche rispetto a quei valori fondanti che da sempre hanno caratterizzato il marchio COP. Hanno concluso poi i consiglieri pentastellati. Capisco la situazione di crisi e di perdite costanti dell'azienda. Tuttavia, il risultato di una sfortunata gestione non può ricadere solo sulla pelle dei lavoratori. Ha tuonato il consigliere Loreto Marcelli. Oggi in Commissione Lavoro si è svolta l'audizione per il problema della Unicop. 270 lavoratori suddivisi negli 8 punti vendita del sud Lazio rischiano di perdere il posto di lavoro. Noi capiamo la situazione di crisi e le perdite costanti dell'azienda, ma il risultato di questa gestione sfortunata non può ricadere solamente sulle spalle dei lavoratori. Quello che noi ci aspettiamo da Unicop è di rispettare i tavoli aperti in regione e al Ministero dello Sviluppo Economico per rivalutare il piano industriale e commerciale e salvaguardare i livelli occupazionali del territorio.